Francesca Montenegro ha in mente un piano assolutamente criminale, che getterà nell'angoscia la sua figlioccia Maria. A rimetterci sarà anche Gonzalo, partito con un inganno per Cuba. Vi anticipiamo però che Maria scoprirà tutto, e che questa volta non avrà alcuna pietà per Francesca Montenegro. Dopo averla minacciata duramente ed essere arrivata allo stremo, tenterà l'ultima carta per scampare la cattiveria della matrona. Dopo lo scontro durissimo che vedrà protagoniste Maria e Francesca, del quale vi parleremo nel dettaglio molto presto, per la Castagnaida si metterà davvero male, in quanto la matrona le metterà alle calcagne alla guardia civile. Come dicono le anticipazioni del segreto, Maria si troverà con le spalle al muro, e preoccupata di vedere la piccola speranza finire nelle grinzie della Montenegro, farà un gesto estremo, se butterà in un burrone con la figlia, proprio come aveva fatto Fernando ai tempi del rapimento di speranza. Le due moriranno o si tratta di una bile mossa per ingannare a sua volta la Montenegro? Lo scopriremo presto.